Gira dai te Se no lo metti in manuale E lo gestisci te Su aumenti la marcia In giù diminuisci la marcia Però in pianura Questa è la sua Senti il motore Deve andare via così lineare Specialmente con questo vento qua Giusto Mary? Giusto Ma lei sta sempre riprendendo? Certo Questo è il mio compito Sono stata pagata per questo Quanto ti pagano? Segreto professionale Non si dica queste cose Per mettere in manuale? Manuale di nuova Automatico Oggi Max mi ha offerto il pranzo Per quello Mi sono offerta volontaria Qui da noi ti ha offerto il piano Ha fatto anche un figurone C'era di tutto Sì sì Buonissimo Le lasagne Cannelloni Una meraviglia Come sempre Anche oggi Di giorno la strattina Ma sì Veramente Sono venuto lì 10 minuti Mangiato un po' di ananas Un altro Ferrari Come vuoi? Secondo me è lo stesso No no Non è lo stesso Non è lo stesso Non è lo stesso Andiamo sempre a Ritti. Come ti chiami? Massimiliano. Mi freni in un rettilineo e quando sei arrivato alla rotonda, prima acceleravi. Acceleravi la salita. Ah, ok. Va bene. Se vuotano la traccia delle salite. Va bene. È simpatica la Mary. Fortuna c'è la Mary, guarda. Grazie, grazie. Perché ti sta nel cartipatico? No, assolutamente, però preferisco sempre una presenza femminile. È stata l'unica a venirmi a trovare due volte. L'unica. L'hai visto? L'unica. Ma dalla Sardegna? In più della Sardegna una, guarda Ferrari, una meta che piace moltissimo anche a me. Ma sono tutti i Ferrari quelli? Eh sì, ci sono i raduni, no? Ah. Ecco, capito. Capito? E' venuta due volte a trovare, bravissima. Complimento. Grazie. Da baciarti tutta, guarda. Che poi arrossisco per cortesì. Eh, vabbè. Quindi continua a smanettare, qua tanto il gasolio paghiamo noi. Capito? Giustamente, ho visto che oggi lo può fare. Eh, continuo. Lasciateglielo fare, no? Poi vediamo la percentuale, però, cosa gli dice il camion, se sei stato bravo o no. No, sicuramente no. Quando una guida per divertirsi non sta, guarda lei che vuole. Se parliamo noi, ma no. Qui poi, sai caro, all'uscita dobbiamo girare. Girando bisogna rallentare perché in fondo c'è uno stop che non si vede una massa, no? E quindi non vorrei che schiantiamo una smart o qualcosa del genere, uno in moto. Tanto si fa male lei. Eh, ma se arrivo io in moto, scusa. Ma lei, ma tu non sei in moto. Vabbè. Svoltiamo qua. Sì, sì, svoltiamo qua. Ma se ti po' faccio finta di sbagliare, vado diritto. Possiamo fare quel tempo il chilometro. Sì, però c'è lì che è gente che aspetta, sai com'è. Ma ci incazzano, che c'è. Eh, se ti vedono andare avanti così, mi dà.